Una delle priorità della macchina organizzativa della 1017 Fiera di Sant'Orso è la sicurezza dei visitatori e degli artigiani. A garantirla ci saranno le forze dell'ordine e le componenti della protezione civile regionale che si coordinano all'interno della sala operativa del COM, il Centro Operativo Misto. Ormai da parecchi anni il Centro Operativo Misto e il COM della Fiera di Sant'Orso è un po' un elemento di grande qualità della nostra fiera perché sebbene non si noti a tutti quelli che fruiscono della fiera è ben presente e la sua attività è fondamentale per il corretto utilizzo della fiera garantendo condizioni di massima sicurezza. In tempi così delicati e difficili il tema della sicurezza è all'attenzione naturalmente di tutte le grandi manifestazioni e quindi ci si occupa dalla più piccola questione fino alla più grande legata all'afflusso di un grandissimo pubblico quindi permette di risolvere il problema della localizzazione dei parcheggi, di intervenire immediatamente quando dei parcheggi sono completi cambiando le direzioni di traffico, evitando gli ingorghi stradali che possono anche causare incidenti, fino ai problemi di deflusso all'interno della fiera evitando l'eccesso di calca della folla che può creare anche questi problemi di salute, di sicurezza ai cittadini cambiando le direttrici di traffico, imponendo il senso obbligatorio e quindi con un presidio molto attento della fiera grazie anche a questo presidio sono evitati tanti tentativi anche di borseggio quindi anche piccoli atti di criminalità che si possono manifestare in queste manifestazioni sono tenuti sotto controllo grazie a questa intensa e preziosa attività c'è un sistema di telecamere che permette di controllare non solo l'area della fiera ma anche le aree limitrofe di parcheggi Tra le diverse componenti del centro operativo misto si forma un'importante sinergia che può essere utile anche in altri contesti La cosa bella è che c'è una grande collaborazione tra tutte le forze dell'ordine, i volontari e l'amministrazione regionale siamo veramente orgogliosi di questo modo di operare, di questa collaborazione e credo che sia proficua non soltanto per un'attività che è comunque un'attività di festa, di gioia come quella della fiera ma che può essere anche molto utile questa collaborazione, maturare queste esperienze per situazioni che possono essere più delicate legate anche a problemi ambientali che alle volte come nel caso dell'alluvione si sono manifestati quindi forze dell'ordine, volontari che insieme collaborano e fanno fronte comune per darci una mano a organizzare questa bellissima fiera di Sant'Orso Come per ogni edizione sono attesi moltissimi visitatori Anche se la fiera si svolge di lunedì e martedì è comunque un evento di grande attrattività anzi io spero che aiuti tutti gli operatori turistici a lavorare anche oltre il weekend di sabato e domenica Per gli artigiani professionisti iniziamo già il sabato con l'atelier de métier c'è già il padiglione enogastronomico aperto anche questo di sabato che dà l'opportunità di conoscere anche i prodotti della nostra terra quindi diciamo la fiera si mette in moto già il sabato e io sono convinto che ci sarà comunque un buon afflusso anche lunedì e martedì perché è un evento talmente importante, talmente amato dai valdostani che la gente non potrà mancare di esserci